L'estate degli ombrellini della discordia. La stagione calda del 2016 rischia di passare alla storia di Gela come quella che ha diviso la città tra i pro e i contro l'idea di abbellire il centro storico con la posa degli ombrellini colorati. Per carità, idea scopiazzata da altri comuni ma che un fondamento di estetica gradevole l'avrebbe persino potuta avere. Senonché in questa città una cosa che sia una fatta veramente bene non si riesce proprio a partorirla. Intanto non serviva certo un provetto colonnello Bernacca per scoprire che dall'indomani della posa degli ombrellini erano previsti tre giorni di vento forte sulla città del Golfo. Sarebbe persino bastato consultare i tanti siti specializzati di meteorologia per sapere che Gela stava per essere interessata da folate di vento di ponente che avrebbero interessato per diversi giorni il nostro territorio. Ed invece la sera prima montati e già l'indomani gli ombrellini erano ad inseguire il vento più che a coprire le teste dei gelesi che passeggiavano sul corso principale. Non solo ma poi è esplosa anche la polemica politica sul costo dell'iniziativa con l'assessore al ramo Eugenio Catania che sul tema non è che sia stato così esaustivo. Fatto sta che ancora ieri sera in consiglio comunale ha tenuto banco la storia degli ombrellini e quanto siano costati. Si dice 9.000 euro e se così fosse chiediamo ufficialmente all'aggiunta comunale di sospendere immediatamente l'eventuale pagamento di questo servizio e per un motivo molto semplice grave inadempimento del servizio prestato. Su via che gli ombrellini siano di scadentissima qualità se ne accorge anche un bambino che siano stati montati a sesso maschile di cane pure. Ora si può comprendere che a portarseli via e a renderli un obbrobrio sia stato il vento forte dell'estate gelese ma che anche durante i giorni di calma piatta sti ombrellini sono alcuni chiusi altri impiccati e altri ancora sgangherati beh questo non è assolutamente accettabile e allora che si sospenda il pagamento alla ditta a cui è stato appaltato il servizio. A proposito di questa ditta pare che l'assessore Catania abbia affidato l'incarico ad un'associazione che con la passata amministrazione comunale andava letteralmente a nozze ed anche a chi accusa questa amministrazione di perfetta a continuità con il passato e cioè con i precedenti governatori della città la vicenda degli ombrellini non ha certo aiutato a sfatare questa diceria.